Fa rabbia vedere sgorgare acqua chiara pulita direttamente dalla condotta di Monteoro come una fontanella all'interno del cortile di un magazzino nella zona industriale di Caniga. Acqua che, come vi abbiamo mostrato ieri, proviene da una condotta danneggiata 100 metri più a monte che ha causato una voragine sulla strada che non solo crea disagio alle aziende che qui operano ma che si mostra come uno schiaffo in faccia a chi ogni giorno deve fare i conti con le durissime restrizioni imposte da Banoa, se non con l'assenza totale di acqua nei rubinetti. E' il caso del quartiere di Baldeda, dove l'acqua manca da ben 20 giorni e dove la sopportazione è arrivata al limite. Gli abitanti hanno annunciato un esposto alla Procura della Repubblica, situazione insostenibile nonostante la presenza delle autobotti anche per il sindaco Gianfranco Canao che più volte ha sollecitato a Banoa che per tutta risposta dice di non avere le risorse finanziarie necessarie per mettere a posto tutti i guai di una condotta con la Brodo. Per oggi a Banoa ha annunciato altre restrizioni a causa della grave situazione della condotta di N600 che da Monteoro alimenta il serbatoio di via Milano, accumulo fondamentale per la distribuzione di acqua nei quartieri di Luna e Sole, Carbonazzi, Monte Medio e Alto, Porcellana Alta, Monserrato, Tingare e Gioscari. La società si legge in un comunicato impegnata quotidianamente per ridurre i danni in attesa dell'intervento della sostituzione integrale della condotta ormai gravemente danneggiata. Le chiusure dei serbatoi principali avverranno con queste modalità in via Milano. Niente acqua dalle 3 fino alle 4 della mattina nell'area di Luna e Sole, dall'incrocio di via Astronauti, Carbonazzi compreso e Serra Secca, chiusura dalle 7 alle 4.